Riesce in qualche modo a far arrivare il pallone a Plagil Altro traversone, attenzione a Kozak Colpo di testa, sul fondo con Buffon che comunque copriva il primo palo E' rimasto a terra... Oh sangue E' rimasto a terra Pasquale Sangue, sangue E allora... Brutta ferita per Manuel Pasquale, brutte immagini Bruttissimo taglio, bruttissimo taglio Chiede subito il cambio a Bolucci ma è chiaro Andiamo a rivedere Gomitata Il gomito largo di Kozak Il volontario ovviamente però dolorosissimo Per Manuel Pasquale Brutto taglio Pochi decimi di secondo Tremende queste immagini E allora noi ci fermiamo per un istante Sulla barella Bene a fare il taglio è brutto Li ha portato fuori Il capitano della Fiorentina Oggi di nuovo in nazionale Dopo sei anni e dieci mesi Sfortunatissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti